È il giorno in cui in oltre 170 paesi si celebra l'ambiente e la salvaguardia del pianeta per sottolineare la necessità di conservare le risorse naturali. È un'occasione quindi per valutare le problematiche della terra, come l'inquinamento di aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, le migliaia di piante e specie animali che scompaiono e l'esaurimento delle risorse non rinnovabili. Con questi obiettivi, mercoledì 22 aprile, gli alunni di alcune scuole primarie fanesi la celebreranno con Avis Fano e l'associazione Teatro Linguaggi. L'iniziativa è promossa dal Cremi dei Servizi Educativi del Comune di Fano nell'ambito dei laboratori di animazione interculturale. Domani alle 17, all'Anfiteatro d'Astat, cinque classi delle scuole primarie di Fano si incontrano per ricordare a tutti gli abitanti che comunque il 22 aprile si ricorda la giornata mondiale della terra. È dal 1970 che le Nazioni Unite hanno proprio indetto questa giornata e con i bambini chiaramente abbiamo parlato, abbiamo discusso e porteranno i loro pensieri, le loro parole, il loro sentimento. Hanno capito perfettamente lo scopo della giornata. Anche l'Avis sarà presente? Sì, l'Avis è presente per due ragioni ben specifiche. Una collegata all'Expo Nutriamo la Vita e quindi con la giornata mondiale e l'altra perché da quest'anno abbiamo iniziato anche le iniziative con le scuole elementari. Non mancheranno i palloncini? No, i mitici palloncini che porteranno in cielo tutti i pensieri e i sogni dei bambini.